Carissimi amici, buonasera dalla sede del Parlamento europeo a Strasburgo. L'Unione europea ha aperto una procedura di infrazione contro l'Italia che potrebbe costarci una sanzione di 3 o 4 miliardi di euro perché lo Stato paga con eccessivo ritardo i crediti che deve alle imprese. Sono dei ritardi che oscillano dai 200 ai 1000 giorni, cioè tra i 7 mesi e circa 3 anni. È un periodo che fa sì che le imprese hanno tutto il tempo per morire. Le imprese in Italia muoiono non perché hanno dei debiti ma perché vantano dei crediti in un contesto dove appunto è lo Stato il principale debitore in solvente e rappresenta l'ostacolo principale alla ripresa dello sviluppo in Italia. Nel 2013 ci sono stati 14.200 fallimenti registrati. Intanto il governo Letta aumenta il debito pubblico ogni mese di 9 miliardi di euro. Contemporaneamente aumenta le tasse nei confronti dei cittadini, cresce inevitabilmente l'evasione fiscale per la sopravvivenza, si impoveriscono sempre di più gli italiani, aumenta la corruzione e il risultato è che moriamo tutti. Muore lo Stato sotto il peso dell'enorme debito pubblico e degli interessi sul debito pubblico, muoiono le imprese perché vantano dei crediti che non vengono onorati, muoiono le famiglie, i cittadini sono istigati al suicidio. È ora di riscattare la nostra sovranità monetaria. Solo quando lo Stato potrà emettere direttamente moneta a credito lo Stato potrà onorare quei 130 miliardi di crediti che deve alle imprese. È ora di un governo che abbia a cuore il bene degli italiani. Basta con la schiavitù dell'euro, basta con i governi asserviti alla dittatura eurocratica e alla dittatura finanziaria. È ora di passare dalla denuncia alla proposta, dalle parole ai fatti. È ora di dar vita in Italia al fronte di liberazione degli italiani aggregando le forze sane e vitali che sono presenti in Italia a partire dai piccoli imprenditori, dai lavoratori, dalle famiglie, giovani, disoccupati, pensionati, dai sindaci e le forze dell'ordine e le forze armate. Dobbiamo creare questo fronte per riscattare al più presto possibile il nostro legittimo diritto alla vita, alla dignità e alla libertà. Andiamo avanti a testa alta e con la schiena dritta. Insieme ce la faremo. Salviamo gli italiani!